Incontro a Palazzo Lascaris con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli che ha preso parte alla settima Commissione Autonomia presieduta da Riccardo Lanzo. Tema della riunione con i consiglieri, a cui hanno preso parte anche i sindaci di capoluogo e i presidenti della provincia, è stato lo schema del disegno di legge disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. È la prima volta che un ministro venga in una Commissione a livello regionale. L'ho fatto in Lombardia e come seconda patria al Piemonte per me doveva essere un atto obbligatorio, anzi gradito. Con ITER che sta proseguendo, quali sono gli step? Giovedì prossimo conferenza unificata, poi approvazione definitiva e poi in Parlamento. Oggi la presenza per la prima volta qua a Palazzo Lascaris di un ministro della Repubblica fa onore al Consiglio e fa onore alla riforma che si porterà avanti. Siamo al percorso iniziale, è stato approvato un disegno di legge nel Consiglio dei Ministri, ci sarà tutto un percorso, un confronto tra Stato e Regioni per verificare le maggiori forme di autonomia. La riorganizzazione dello Stato sui territori è di un'importanza decisiva per la democrazia del nostro Paese. L'auspicio per quanto ci riguarda è che il documento iniziale depositato dal ministro Calderoli trovi spazi per migliori condivisioni.